I cronisti dell'epoca lo definirono il calciatore universale e fu per molti superiore persino al grande meazza. Fulvio Bernardini è stato probabilmente il più forte giocatore della sua epoca, secondo gli scrittori a lui contemporanei. Era dotato di una tecnica eccelsa e di un'intelligenza fuori dalla portata di tutti gli altri. Ignorato incredibilmente dal GT dell'Italia Pozzo, Bernardini tuttavia si dimostra in campo troppo forte per gli avversari e guidò con impareggiabile maestria la Roma nei suoi primi anni di vita, diventando, secondo tutti, il primo grande è giocatore, della storia, della AS Roma. Uno che rompeva gli schemi, non dico controcorrente, ma molto geniale, molto originale in tutte le sue cose, anche in quegli anni, in quella breve, credo che fu un anno soltanto come il CT, fece delle cose proprio fuori dal mondo. A me era il personaggio, mi dicevano che anche come calciatore aveva questa personalità, questa capacità non soltanto di vedere la partita e di capirla, di intuirla, poi di due piedi molto buoni. Pietro è stato un grandissimo giocatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.